un uomo cerca un buco una donna cerca il soldo salve a tutti utenti di youtube da conoscitore italiano sembra la foresta massonica sembra la giungla effettivamente ho scelto la cornice tipicamente vegetale con tanto di uccellini che cantano dietro di me simpaticissimi uccellini proprio per raccontarvi questo ho scelto una cornice vegetale per raccontarvi questo perché trovo che la donna sia un essere mite vedete quando qualcuno mi ha etichettato barra bollato come misogino secondo me quel qualcuno non sa di cosa sta parlando perché perché un misogino non direbbe parole così belle ad una donna o ad una ragazza io considero la donna un essere mite un essere perfetto un misogino direbbe cose brutte nei confronti barra nei riguardi di una ragazza o di una donna ma chiusa questa parentesi poc'anzi aperta oggi vengo a parlarvi di un fatto molto semplice quale il fatto secondo cui un uomo cerca un buco una donna cerca il soldo allora spieghiamo come stanno le cose oggi come oggi la maggior parte non tutti sotto lineo specifico non tutti gli uomini cercano il rapporto intimo ma la maggior parte secondo me sì secondo me la maggior parte degli uomini dei ragazzi cercano cerca il rapporto intimo questo ovviamente perché perché l'uomo diciamo che è mosso da pensieri non dico che siano torbidi però sono pensieri che vanno a partire dal cervello la risposta è tutta qui dentro l'impulso parte dal cervello arriva agli occhi naso bocca esofago scende nel palo digerente arriva fino all'organo genitale e lì c'è la cosiddetta esplosione dell'emozione chiamata erezione dove i corpi cavernosi si vanno a caricare e diventa più grosso il membro ora quindi un uomo quando il momento in cui ha questa forma di eccitazione perde un po testa no io dico in maniera simpatica perde un po la brocca di conseguenza pur di svuotarlo farebbe qualsiasi cosa pur di godere farebbe qualsiasi cosa anche la più biega tra virgolette perché ripeto non riesce a trattenersi ci sono molti uomini cano il controllo altrettanti invece che purtroppo soffrono di una mancanza idea una mancanza di autocontrollo non riescono ad avere il controllo quando io andavo alimentari si diceva self control cioè il libero controllo molti uomini oggi come oggi non hanno il controllo del loro corpo e pur di godere fanno e farebbero qualsiasi cosa carte false va bene ora e ripeto sottolineo ora il mio discorso oggi è molto semplice e va a riguardare la maggior parte degli uomini di oggi del presente dell'attuale del moderno del contemporaneo un uomo cerca un buco dice ma che cos'è il buco leandro caro conoscitore caro conoscitore nel nord italia dicono conoscitore nel sud conoscitore in sicilia no qual è il buco io quando dico il buco alludo che significa alludo mi riferisco alla parte intima della donna alla cosiddetta fessura che la fessura e ripeto sottolineo e proprio quella fessura è capace di ingenerare lotte da parte che partono da migliaia di uomini che vorrebbero averla a tutti i costi che vorrebbero averla in maniera obbligatoria va bene ora io vi dico tranquillamente e serenamente ognuno può e deve fare tutto ciò che vuole io non sono deputato a obbligare chi che sia a fare ciò che diciamo così qualcuno voglia che faccia però mi occupo di andare a diffondere il mio pensiero il mio punto di vista facendomi portavoce di un concetto molto semplice il concetto secondo cui non si può ancora oggi vedere un uomo che continua solo a pensare a quello cioè l'uomo di oggi ha in testa i motori il calcio e quella cosa che tanto gli piace parlo ovviamente di uomo etero e questa è una situazione che secondo me ha dell'incredibile per quanto riguarda invece la donna cerca il soldo ma come cerca il soldo in che senso? bene nel senso che comunque la donna complice una crisi economica profonda radicata di cui le donne non hanno colpa sia ben chiaro si ritrova magari a dover soddisfare un alto tenore di vita cioè una donna di oggi ha diciamo così un tenore di vita da soddisfare piuttosto elevato perché? perché vuoi o non vuoi la donna ha bisogno di una borsa di oggetti importanti per esempio la butto là una maglietta griffata un profumo da 50 euro non so se conoscete il profumo chiamato Narciso Rodriguez bene io ho letto su internet che il profumo chiamato Narciso Rodriguez costa addirittura 85 euro voi pensate quanto può costare un profumo di qualità? ok cioè il tenore della vita della donna è più elevato si deve comprare il make up, il mascara, luci da labbra, la matita per sotto gli occhi cioè ha un esborso economico maggiore rispetto all'uomo, rispetto al ragazzo quindi una ragazza di oggi magari è più portata a cercare i soldi da un uomo bene io non sto dicendo che tutte le ragazze e donne cerchino soldi però secondo me la maggior parte cerca i soldi dall'uomo se sei donna o ragazza sappi che non sto parlando di te quindi escluditi da questa categoria io sto parlando in generale seguendo la mia opinione detto questo, questo è quello che penso spero di avervi detto quello che penso realmente parlando vi ripeto a questo e spero di avervi fatto cosa gradita oggi nel raccontarvi qual è la mia opinione un'opinione che non pretende di essere vera di essere considerata come vera come dico spesso nei miei video ma che pretende però di essere diffusa di essere trasmessa a un largo quantitativo di pubblico punto se le mie parole vi piacciono sono contento vi chiedo di iscrivervi al canale pubblicamente vi chiedo di mettere su facebook e in altri social questo video al fine di farla arrivare lontano e di avere da parte vostra un'opinione un'opinione che mi auguro arriverà dalla maggior parte di voi e soprattutto un'opinione che non sia un'opinione stupida, banale ma che sia un'opinione che vada a interfacciarsi con quello che è il mio punto di vista detto ciò, grazie a tutti ben vengano le critiche, ben venga il confronto ben venga la, chiamiamola la conversazione l'importante è che il confronto sia civile e sia un confronto fatto, basato su regole precise da parte mia è tutto conosciuto l'italiano iscrivetevi mi raccomando commentate fatemi sapere cosa ne pensate datemi le vostre opinioni fatemi una bella foto sentite il profumo il profumo del verde mi rigenero completamente e c'è anche un po' da rietta però devo dire che non si sta male da mattemi è tutto ciao a tutti e una buona giornata grazie a tutti